Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di Puggini On Air. Oggi parleremo di una notizia che ha fatto molto rumore. Fabio Fazio lascia la RAI e passa a Discovery dopo 40 anni di carriera. Oggi vogliamo commentare insieme a voi questa notizia, questa notizia che ha suscitato molte polemiche e reazioni, soprattutto dopo il commento di Matteo Salvini, il ministro Matteo Salvini, che ha scritto su Twitter Belli Ciao, con tanto di manina che saluta. Ecco, prima di parlare di ciò che è successo, ricordiamo subito cosa è Bella Ciao, questa canzone, no? Perché avrete capito subito che Belli Ciao è una storpiatura del titolo di questa canzone, dal titolo Bella Ciao, che penso, immagino, tutti conoscano, ma tanto per chiarirlo a chi non dovesse saperlo, altrimenti non si capisce la gravità di ciò che è successo. Allora, Bella Ciao è un inno partigiano italiano che risale alla Seconda Guerra Mondiale ed è diventato un simbolo della lotta antifascista e della resistenza italiana. Fu cantata dai partigiani italiani durante la lotta contro l'occupazione tedesca e il regime fascista e il testo parla della lotta per la libertà e la dignità umana. Oggi Bella Ciao è diventata una canzone popolare che viene cantata in diverse situazioni, anche in contesti di protesta e manifestazioni politiche. Ma parliamo della notizia. Fabio Fazio lascia la RAI per dirigersi a Discovery e la notizia è stata subito resa pubblica dalla stessa Warner Bros, suscitando una serie di reazioni non solo tra i telespettatori. Proprio il presentatore, in un'intervista al Fatto Quotidiano del 2020, aveva parlato dei numerosi attacchi ricevuti dal ministro Salvini e del silenzio della RAI, sottolineando di averli contati. Se viene attaccato dal capo del Viminale, hai una vita normale e due figli da portare a scuola e non sai mai chi sono i seguaci del ministro. Queste le parole di Fabio Fazio. Tra i due le scintille sono state continue e Salvini non ha mai mancato di criticare il conduttore. Come durante l'ultima campagna elettorale dello scorso settembre, quando ritirò fuori l'idea di abolire il canone RAI e disse «E se Fabio Fazio vuole fare i comizi, se li paga di tasca sua». Il tweet del vicepremier non è piaciuto a molti, scatenando le polemiche anche dell'opposizione. «Imbarazzante, un ministro imbarazzante», ha scritto Alessia Morani del PD, replicando alle parole del ministro «essere stronzi è dono di pochi, farlo apposta è roba da idioti». Ha commentato Matteo Orfini «Le critiche sono arrivate soprattutto per il ruolo che Salvini ricopre. Non spetta a me difendere la professionalità di Fabio Fazio e non ci vuole un genio per capire che il suo addio alla RAI rappresenta un danno per l'azienda e il servizio pubblico. L'arroganza, l'ottusità e il rancore possono far parlare così, ma un ministro non può parlare così». Ha osservato Peppe Provenzano, responsabile esteri del PD. La senatrice Simona Malpezzi ha rilanciato «Non c'è che dire, che classe, che stile. Matteo Salvini non perde occasione per farsi riconoscere. Mai all'altezza del ruolo che ricopre. Mai». A commentare con rammarico l'uscita del conduttore dalla RAI è invece Francesca Abria, membro del Consiglio di Amministrazione, che ha sottolineato su Twitter «L'uscita di Fabio Fazio dalla RAI è un danno all'azienda in termini di identità, qualità culturale e ascolti. Una brutta notizia per il Paese. Negli ultimi anni Fazio è stato uno dei pochi volti noti della RAI a mostrare coraggio e indipendenza di pensiero, denunciando spesso le ingerenze politiche nell'azienda e difendendo il ruolo del servizio pubblico. La sua uscita rappresenta quindi un segnale preoccupante per la libertà di informazione e la pluralità dei media in Italia». Naturalmente non era mia intenzione dare voce a tante voci del PD che si sono scatenate contro il Ministro Salvini, ma vi ho letto alcuni tweet, alcune frasi che ho trovato, che naturalmente non sono esaustive di tutte le repliche a questo forse incidente del Ministro, chiamiamolo così, ma poi vi dirò anche la mia e non penso assolutamente che sia un incidente. Insomma, sicuramente ci sono tante altre voci e ce ne saranno molto più eloquenti e credibili sicuramente dei politici o dei politici del PD, per cui sicuramente nei prossimi giorni continueremo a parlare di questo argomento e avremo anche molte più voci da raccontarvi. In sostanza, la notizia dell'addio di Fabio Fazio alla RAI ha scatenato diverse reazioni e polemiche, soprattutto a causa del commento di Matteo Salvini che ha fatto scalpore sui social. Molti hanno criticato il vicepremier, ma molti per la sua mancanza di rispetto verso il presentatore e forse anche verso tutti gli italiani, mentre altri hanno espresso il loro dispiacere per la decisione di Fazio di lasciare la RAI e non dimentichiamo anche la Litizzetto che lo seguirà. In ogni caso, l'evento rappresenta un segnale preoccupante per la libertà di informazione in Italia e fa riflettere sulla necessità di tutelare la pluralità dei media e la loro indipendenza dai poteri politici ed economici. Ma lasciatemi fare un commento un po' più personale ancora. Questa è certamente un'azione molto discutibile da parte del ministro Salvini e sicuramente ha suscitato reazioni di sdegno e indignazione. Beh, direi che è molto poco. Utilizzare un inno partigiano che rappresenta uno dei simboli della lotta contro il fascismo e per la libertà in modo ironico e sarcastico sembra una scelta inappropriata e offensiva per molti. Anche questo mi sembra poco perché io la vedo un po' più grave la cosa. Perché noi siamo figli dell'antifascismo noi abbiamo una costituzione antifascista e un ministro non può non essere antifascista. Il fatto che derida coloro che sono dichiaratamente antifascisti utilizzando appunto un inno antifascista mi suona un po' strano. Direi che la cosa è molto più grave di quello che tutti i giornali tutti i media dicono. Cioè, ne parlano sempre in modo secondo me troppo, troppo morbido perché è una cosa gravissima ma è grave soprattutto perché Fabio Fazio viene praticamente licenziato in modo assurdo dalla RAI insieme alla Litizzetto e sanno benissimo tutti chi è Fabio Fazio e sanno benissimo tutti chi è Matteo Salvini ma soprattutto sanno benissimo tutti coloro che appartengono a questo governo cosa sono, chi sono, cosa hanno detto hanno fatto in passato o sono stati amici di personaggi che hanno addirittura dichiarato tranquillamente di essere fascisti oppure hanno alzato tipo il braccio destro in manifestazioni pubbliche insomma, non parlo solo della Mussolini il fatto che il Presidente del Senato a casa abbia i simboli e le statuine di Mussolini mi sembra ovvio che sia non soltanto un appassionato del genere ma anche un po' magari forse un seguace di quel mondo lì vogliamo dirla così allora questa cosa mi preoccupa perché se iniziano a cacciare dal servizio pubblico tutti coloro che non la pensano in un certo modo e non dico che sia questa una responsabilità diretta del governo ma dico se iniziano a mandare via perché cacciare potrebbe essere interpretato male cacciare nel senso che naturalmente se tu non rinnovi un contratto stai licenziando naturalmente il presentatore questo è chiaro i fatti come si sono svolti in realtà in dettaglio non lo sappiamo ma a grandi linee lo abbiamo detto preoccupa praticamente il fatto che chi in questo momento ha il potere derida un presentatore un conduttore chiaramente antifascista attraverso utilizzando un inno il titolo di un inno antifascista ed essendo dichiaratamente di destra insomma qualcuno ha parlato di gaffe ma davvero è ridicolo parlare di gaffe qui stiamo parlando di qualcosa che ci dovrebbe preoccupare molto dovrebbe preoccupare tutti noi e soprattutto dovrebbe indignare tutti noi perché qui ci vogliono anche toccare la storia ci vogliono toccare la costituzione ci vogliono cambiare forse anche la testa e cosa che forse hanno iniziato a fare davvero perché io lo vedo anche nel comportamento delle persone nella vita reale a volte c'è da aver paura perché forse le persone si sentono anche un po' legittimate ad avere un comportamento da fascistelli spesso nella vita reale forse per il fatto che c'è un governo di destra non lo so ma io vedo che molti atteggiamenti in pubblico sono cambiati da parte di molte persone come se avessero improvvisamente acquisito un potere diverso come se dicono a questo punto adesso comandiamo noi ve la facciamo vedere quindi si inizia a mancare completamente di rispetto verso chi non la pensa come te e questo già è la politica che poi la politica è anche quella che si fa nelle piazze che i cittadini quando parlano tra di loro discutono gli argomenti in piazza stanno facendo politica e non vorrei che piano piano la politica degenerasse e si facesse sempre più un largo spazio qualcosa che non è più politica non è più democrazia insomma questo intervento questo belli ciao di Salvini secondo me conferma una cosa che ho sempre pensato in continuazione non si fa altro da mesi da quando c'è questo governo ma forse anche prima dalla campagna elettorale che dire è una stronzata il fascismo non può tornare come se il fascismo fosse solo la dittatura il fascismo non è solo la dittatura il fascismo è una filosofia è uno stile di vita è una fede per molti per cui il fascismo è qualcosa che esiste per molte persone tuttora è attuale vi ripeto anche l'atteggiamento quotidiano nel quotidiano di certe persone è fascista c'è proprio chi ci crede capite per cui la cosa secondo me è più grave di quanto pensiamo e quindi non si può liquidare dicendo beh ma tanto non è che torna davvero il fascismo no e purtroppo il fascismo invece non è che non deve tornare perché il fascismo c'è è sempre esistito nella testa di molte persone perché è nella testa delle persone non è solo la dittatura quella lì che purtroppo ha portato poi alle guerre a tutte le tragedie che sono successe il secolo scorso alla Shoah eccetera insomma però voglio dire purtroppo ha sempre continuato a vivere il fascismo nella testa delle persone e secondo me ci vuole davvero un attimo ad attuarlo ma non la dittatura l'atteggiamento bullista mafioso fascista e questo e questo questo belli ciao da parte di Matteo Salvini che purtroppo è un ministro secondo me è molto preoccupante ripeto conferma il fatto che il fascismo già c'è perché su certe cose mi dispiace ma esiste il bianco o il nero cioè se sei un giocatore o fai parte di una squadra o di un'altra non è che puoi tirare qualche calcio verso una rete qualche calcio verso un'altra fai il jolly no non esiste nel senso su certe cose non esiste la via di mezzo non esiste il compromesso noi siamo italiani abbiamo una costituzione siamo antifascisti orgogliosamente antifascisti è un ministro che utilizza verso una persona che ha dato lungo spazio per esempio ultimamente ha fatto addirittura una trasmissione con la Segre sul insomma sul fascismo sulla resistenza quindi una persona da sempre di sinistra come Fabio Fazio che da un ministro di destra si sente dire belli ciao sicuramente questo conferma che tutti questi dibattiti che vogliono difendere il fatto che il fascismo non può tornare che che il fascismo non esiste più e quindi la sinistra che utilizza o chi comunque utilizza questo linguaggio non fa altro che sviare l'attenzione sui problemi sono tutte stronzate perché questo è un problema reale poi questi sono quelli che dicono prima gli italiani l'italiano il made in Italy noi siamo italiani eccetera eccetera ma si sono dimenticati che gli italiani sono antifascisti beh spero che prima o poi qualcuno glielo ricorderà in maniera più chiara è più incisiva rispetto a quello che posso fare io perché purtroppo per dirla alla Marchese del Grillo loro sono loro e io non sono un cazzo quindi c'è poco da fare ne possiamo però parlare e possiamo condividere anche nei commenti nel nostro video su Youtube scriveteci perché possiamo davvero continuare questo dibattito che secondo me è molto importante e interessante e diciamo in sintesi che il fatto che il ministro Salvini faccia parte di un governo di estrema destra e che la destra italiana abbia avuto politici che hanno affermato di essere fascisti in passato senza farsi troppi problemi rende ancora più delicata questa situazione e alimenta sospetti e preoccupazioni riguardo alle posizioni politiche di questo governo è importante che i rappresentanti delle istituzioni pubbliche si comportino con rispetto e decoro senza utilizzare simboli e riferimenti che possano offendere o umiliare parti della popolazione in questo caso tutta la popolazione che è antifascista specialmente tutti tranne pochi per fortuna specialmente dicevo in un momento in cui questo clima politico e anche il clima sociale è già molto teso sarebbe auspicabile che il ministro Salvini si scusi per il suo comportamento e si impegni a mantenere un comportamento come dire più almeno più normale non dico non dico che diventi antifascista però almeno stia zitto su certi argomenti almeno non faccia ironia non faccia il comico perché non è un comico almeno in questo momento poi può tornare anche a fare il comico perché non è che questa cosa ci ha fatto proprio ridere preferisco la Littizzetto o Fabio e la Littizzetto insieme insomma fanno molto più ridere io non sono né di sinistra né di destra né di centro né di qua né di là io sono sono quindi rogito no penso ecco una cosa che molti dovrebbero fare prima di parlare quindi io sono penso non sono né di questo né di là né di qua ok lo dico solo rispondendo subito a quei commenti a cui poi non ho voglia di rispondere dopo però vi invito a commentare tutti a dire ciò che pensate perché ho rispetto naturalmente delle opinioni di tutti e sarò felice anche di rispondervi qui sotto questo video questa puntata speciale di Radio Puggini On Air e siamo giunti alla conclusione abbiamo parlato di temi molto importanti secondo me attuali la vicenda dell'addio di Fabio Fazio alla RAI e della Litizzetto la polemica suscitata dal tweet di Matteo Salvini e l'ironia utilizzata dallo stesso ironia è un complimento già dire ironia vabbè questa diciamo specie di ironia utilizzata su un inno partigiano ma non è solo un inno partigiano che non viene rispettato perché diciamo non è un inno sacro naturalmente no diciamo c'è tutta questa storia dietro questa storia italiana questi ideali questo naturalmente essere da una parte Fazio di sinistra dall'altra Salvini di destra e così come tutto il governo da una parte e la RAI la RAI da che parte sta? sta dalla parte della cultura sta perché Fabio Fazio dobbiamo dirlo insomma è uno dei pochi che fa cultura in RAI così come la Litizzetto e soprattutto fa tanti ascolti per cui anche questo è un altro aspetto di cui non abbiamo parlato in modo molto approfondito ma approfondito approfondito ma vi chiedo anche qui voi cosa ne pensate insomma perché la RAI ha permesso questo dopo 40 anni che Fazio è lì e la Litizzetto anche insomma che tutti personaggi che tutti conosciamo non è che stiamo parlando per cui è molto facile farsi delle domande e forse anche darsi delle risposte ma le risposte sono convinto che forse arriveranno perché questo caso è di una gravità inaudita abbiamo visto come queste vicende abbiano suscitato poi infatti subito molte reazioni e commenti molto forti speriamo ne arrivino molti di più e molto più autorevoli forse anche il Presidente della Repubblica a un certo punto chissà forse dovrà sentirsi quasi costretto ad alzarsi dalla sedia e dire qualcosa chissà questo accadrà non lo so aspettiamoci di tutto secondo me forse non volevo dire alzarsi dalla sedia perché sta lì per dire sì certo sta lì seduto ma con tutto il rispetto verso il Presidente della Repubblica naturalmente resta lì seduto a guardare oppure interviene perché stiamo parlando davvero di un ministro importante del governo Meloni non stiamo parlando così di un politicuccio di un consigliere comunale quindi con tutto rispetto anche per i consiglieri comunali se no qua insomma capite insomma leggete fra le parole altrimenti non si può parlare vabbè insomma ci auguriamo noi di avervi offerto spunti di riflessione interessanti quindi nei commenti sbizzaritevi perché io ci sono vorrei continuare questo dibattito e naturalmente vi invito ad iscrivervi a Radio Puginio Nerd dove parliamo di tanti argomenti del mondo dello spettacolo a volte anche di vicende di attualità come queste di curiosità e soprattutto di nuovi singoli e album in uscita vi invito ad ascoltare la mia musica e vi do appuntamento alla prossima puntata di Radio Pugini On Air grazie a tutti per averci seguito buona serata grazie a tutti